michael zoshenko la povera lisa una certa personcina una brunetta proprio niente sciocchia e anzi quanto mai sveglia ha deciso fermamente di diventare ricca entro l'anno non che lei si sia messa in testa di ottenere proprio una ricchezza favolosa come qualche volta succede nei paesi capitalisti fra i milionari e gli speculatori no non era questo che lei voleva cioè a dire il vero era proprio questo che lei voleva solo dato che non si rendeva ben conto di come accadono queste cose al giorno d'oggi lei di conseguenza aveva deciso di avere quello che è nei limiti del possibile lei voleva solo una qualunque fort blu con uno chauffeur fisso una comunissima dacia in campagna un conticino in banca oltre naturalmente una posizione di riguardo per il marito in modo da poter andare dappertutto e fare molte conoscenze suo marito però era un semplice ingegnere o per meglio dire un idrologo che per loro vuol dire qualcosa che ha a che fare con l'acqua e stando così le cose non aveva certa occasione di progettare cose straordinarie di quelle che procurano quattrini e premi agli autori di nuove idee e nuove proposte a farla breve vivacchiava passabilmente con i suoi settecento rubli e poiché era entusiasta del suo lavoro era anche in certa misura del tutto soddisfatto la sua consorte invece con questa somma proprio non ci si ritrovava e per di più donna com'era oziosa e vanitosetta con una visione del mondo piuttosto scadente sognava lussi inauditi e così via qualcuno le aveva detto che gli scrittori di solito vivono tutt'altro che male che alcuni di loro hanno la macchina da scrivere appartamenti privati villette e qualche volta persino l'automobile provi un po' anche lei a cercare qualcosa fra questi strati sociali ma lisa non sapeva da che parte cominciare perciò non senza un po' di precipitazione si mise col primo autore che le capitò a tiro ma a dirla fra noi questo ingegnere dell'animo umano nemmeno a farlo apposta si dimostra un tipo eccezionalmente non abbiente e limitato e per di più era dedito all'alcol ragion per cui entro un mese aveva espresso la speranza che lei se ne andasse da qualche parte a lavorare per conto proprio in quanto lui aveva perso la fiducia in se stesso dato che si era accorto di scrivere solo libri scadenti di livello artistico poco elevato che non riflettevano pienamente la grandezza dell'epoca insomma lui non aveva giustificato le speranze di lei che perciò si trovò a dover piantare questo suo degenerato che l'aveva fatto perdere la fede nella potenza della letteratura insomma lisa se ne tornò dal consorte e solo rimaneva in attesa che accadesse qualcosa al più presto fu proprio allora che fece conoscenza con uno straniero glielo avevano presentato al ristorante e avevano detto che era un turista straniero che viveva all'hotel ma che non era per niente soddisfatto e sognava di trovare una camera in una casa privata per un paio di mesi lei non aveva mica qualcosa di simile per caso e per quanto lei non avesse niente di simile tuttavia si rallegrò estremamente e decise di far trasferire da qualche parte per un paio di mesi la sua riverita mammina solo per non lasciarsi sfuggire quel povero straniero sperduto che non poteva certo continuare a vivere negli alberghi così scomodi e rumorosi tra i campanelli e l'andirivieni delle cameriere insomma lei riuscì a ricavare nel suo appartamento una stanza per questo turista ed effeminato aristocratico e sebbene il suo consorte non fosse tollerante fino a questo punto lei tenne duro e la spuntò e traslocò con tutto il suo scintillante guardaroba profumi macchina fotografica eccetera e così lisa pensando che fosse arrivato il grande momento della sua vita se ne andò con questo straniero che si innamorò di lei straordinariamente e le fece formali proposte lei fu d'accordo e se ne rallegrò tanto da non potersi dire in quanto al marito lo piantò del tutto e si mise a convivere con lo straniero nella camera della mamma sebbene il suo straniero quasi non parlasse russo e lei al contrario parlasse solo il russo tuttavia questo non costituiva affatto un ostacolo alla loro scambievole felicità internazionale e l'insieme lei era felice e sognava a Parigi, Londra, il Mediterraneo e così via ma dopo un mesetto il turista straniero aveva ormai imparato ad esprimere i propri pensieri in un russo un po' più passabile e un bel giorno che parlava di questo e di quello sembrò a Lisa che dalla conversazione venisse fuori piuttosto confusamente che quel tizio non aveva proprio nessuna intenzione di tornarsene in Europa ma che anzi voleva proprio stabilirsi lì inoltre per quel che riguardava quelle certe sue difficoltà il fatto è che dalle sue parti gli avevano chiuso una certa sua impresa e così lui era rimasto senza lavoro ecco perché era venuto nell'unione sperando di trovare qualcosa da fare nella sua specialità dato che trattava di acque minerali ed effervescenti cose di cui principalmente necessita l'unione sovietica e se poi si fosse stabilito là allora fra un anno avrebbe potuto fare un viaggetto a Parigi se lei proprio ci teneva tanto allora lei sospirando gli chiese piuttosto venenosamente perché date le sue condizioni e dato che era un semplice disoccupato non lasciava le sue abitudini effeminate e non andava in una casa a buon mercato invece di ingannare con il suo aspetto e la sua condotta quelli che gli stanno d'intorno ed indurli a trarre chissà quali conclusioni lui allora le fece notare che proprio per fare economia era passato dall'albergo a casa sua lei si mise a piangere dicendo che se le cose stavano così allora nella sua povera testa la visione del mondo le diventava confusa e che per quanto riguardava i turisti stranieri lei aveva idee del tutto diverse lei pensava che quelli senza eccezione andassero in giro per capriccio e curiosità e non per le ragioni per le quali lui era venuto ci mancherebbe altro che lei andasse dietro ai disoccupati e che per quanto di questi almeno da noi non ce ne siano a lei però era riuscito di trovarne uno allora sarebbe stato meglio che lei si fosse presa un impiegatuccio con i suoi cento rubli al mese per l'insulto e l'umiliazione pianse per tre giorni e fece tornare subito il turista all'albergo dato che la sua mamma viveva nella strada tanto più facilmente lo piantò in quanto era venuto fuori che il suo primo marito aveva escogitato un notevole nuovo sistema di economia nel lavoro e aveva ottenuto un premio di 10.000 rubli il che era stato pubblicato anche sui giornali però il marito non immaginando che sua moglie sarebbe tornata aveva dato questi denari per la costruzione del socialismo era un grande entusiasta ed era particolarmente indifferente al denaro così aveva dato questa somma allo Stato lei al ritorno lo seppe e se la prese tanto a cuore che il marito temette per il suo equilibrio mentale quando alla fine si calmò fece di nuovo segreta risoluzione di trovare qualcosa di meglio ma qualcuno le venne a dire che quello sventurato scrittore col quale fino a poco tempo fa conviveva e non era felice inaspettatamente aveva avuto successo aveva smesso di scrivere quelle sue insignificanti bagatelle ed invece aveva scritto un'opera drammatica che in quanto a forza dicevano non la cede a Boric Shakespeare né a nessun altro in quel ramo e adesso faceva guadagni letteralmente meravigliosi lei addolorata di non aver saputo aspettare questo periodo di buona vena si mise di nuovo in testa di andare a vivere con questo drammaturgo ma venne a galla che lui aveva già due famiglie ed era relativamente felice però grazie a questa conoscenza lei si avvicinò agli ambienti teatrali e trovò che c'erano grandi possibilità inoltre a teatro fece la conoscenza di un comico di varietà che a quanto dicevano guadagnava quattrini appalate sul momento si era proposta di andarsene con questo comico ma all'ultimo momento ebbe paura di qualche trucco o imbroglio da parte sua come ne aveva avuti col turista e qualcun altro di quel genere lei allora si mise a imparare danze folcloristiche per calcare la scena e guadagnare come gli altri ma per via delle cose spiacevoli che le erano capitate col turista straniero e con lo scrittore il dottore le riscontrò la nevrosi cardiaca e l'eruzione cutanea perciò si mise a studiare canto ed ora fa la cantante ed ha cominciato a guadagnare decentemente in concerti privati e nelle case di riposo al marito invece ha detto che smetterà di vivere con lui che lei prima aveva punti di vista antiquati per ciò che riguardava il denaro e le relazioni coniugali ma che ora dato che guadagnava fino a mille rubli al mese con le sue canzoni lei aveva del tutto cambiato idea e non si sarebbe certo messa contro l'indipendenza della donna tutta la sua tranquillità le durò finché non ebbe notizia del suo turista le dissero che quel suo straniero aveva trovato qui nella sua strana specializzazione un buonissimo posto aveva ottenuto un eccellente stipendio aveva sposato una ragazza giovane e con lei se n'era tornato a casa al suo paese per mettere a posto i suoi affari e per portarsi qui l'automobile le avevano detto che lei doveva aver parlato piuttosto male il russo con lui se si era lasciata sfuggire un simile esemplare questa notizia lei la sopportò con difficoltà per un po' le si abbassò anche la voce ma dopo un paio di settimane eccola di nuovo ristabilita a cantare a più non posso solo le è rimasta l'eruzione cutanea ecco che specie di signore ci sono in giro e che cosa capita loro qualche volta quando vogliono fare quattrini in modo diverso da come si usa da noi Zocenco traduzione di Sergio Corradini